italia football club ravioli galletti di gallarate il simbolo della città sono i due galli uno bianco e uno rosso tant'è vero che la forma è la forma della cresta da una parte bianca dall'altra rossa il rosso utilizzo la barbabietola e il bianco e il bianco naturale all'uovo diciamo sono fatti patata luganica e zafferano anticamente usavano fare il risotto luganica zafferano riso non posso metterglielo dentro la luganica sì allora faccio patata luganica zafferano gallarate la città dei due galli quella che trova i propri colori e simboli anche in un piatto dalla forma al ripieno i galletti i ravioli di michele urru mettono insieme gusti e radici del territorio si sposano con ogni tipo di condimento e chi li ha inventati preferisce servirli con burro salvia e parmigiano il ripieno è a base di luganica zafferano e patate altro richiamo alla tradizione e al risotto tipico gallaratese quello preparato da ogni famiglia in occasione di una festa